Ciao a tutti, rieccomi. Allora, mi è stato chiesto di fare un tutorial, trucco, come tema, un tema che ancora non ho trattato, quindi in tutti i miei make-up, ed è il tema animalier, quindi devo andare a ricreare un trucco che rappresenta una volpe. Grazie. 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 un trucco facile per ricreare una volpe. Spero che vi piaccia, alla prossima, ciao! Ora sono propriamente una volpe!